L'area dove costruire futuro nuovo ospedale di Alessandria ha scatenato un dibattito tra regione e comune che non si è ancora concluso ma che alla fine ha già dato un risultato inatteso e che comincia a preoccupare seriamente i cittadini di Alessandria. In pratica se tutte e tre le zone della città identificate secondo le varie relazioni tecniche risultano alluvionabili un po' a causa del tenero, un po' a causa del bormida allora c'è veramente da preoccuparsi. Soprattutto dopo aver visto i disastri causati dalle piogge infinite di queste ultime settimane. In pratica per la regione l'area PAM, la numero 3 in questa mappa, è a rischio esondazione. Per il comune invece è quella in zona Galimberti-Borsalino, la numero 2. Poi sono tutti d'accordo che quella più a rischio è sempre la zona aeroporto, il quartiere Orti che è l'area numero 1. Sulla zona PAM poi c'è anche il Tar del Piemonte, il Tribunale amministrativo che nei prossimi giorni dovrà rendere nota la sua decisione in riferimento all'esposto presentato l'anno scorso da alcuni cittadini del quartiere europista basato sull'idea che l'area PAM può essere a rischio alluvione a causa della vicinanza col fiume Bormida. La preoccupazione viene riportata alla luce anche da diverse forze politiche e in questo caso non è frutto di uno scontro politico destra-sinistra ma un ragionamento condiviso. Alessandria è ancora a rischio nonostante tutti i lavori di messa in sicurezza dopo l'evento alluvione degli anni 90. Se ne discute anche a livello consiglieri regionali. In questi giorni è arrivata una nota stampa dove è scritto Le relazioni idrogeologiche della regione dimostrano come numerose aree della nostra città siano a rischio, servono investimenti. Sarà quindi presentata un'interrogazione per capire se esiste un piano di interventi o se si è deciso di affidare la città alla buona sorte.